Tensioni, messaggi al vetriolo e la disponibilità dell'assessore al welfare di regione Lombardia Guido Bertolaso a passare il testimone a chi vorrà il presidente anche domani mattina. Ha scatenato polemiche e nervosismi nella maggioranza dei centrodestra in Lombardia e anche in giunta con scambi accesi fra gli stessi assessori l'annuncio di Bertolaso e TV riguardo all'ospedale di menaggio che verrà riorganizzato ed è potenziato. Oltre al comunicato congiunto degli esponenti comaschi dei partiti di maggioranza in consiglio regionale che si sono detti basiti per le parole espresse sul presidio Erba Renaldi, il dissenso è stato espresso anche via WhatsApp nella chat degli assessori come riferisce l'ANSA con l'assessore comasco Alessandro Fermi che avrebbe definito inaccettabile, rispettoso e ingiustificabile l'annuncio fatto senza avvisare nessuno. E Bertolaso che a sua volta avrebbe risposto di aver gestito con prudenza la vicenda e di non voler interferire nella campagna elettorale per le europee dello stesso Fermi. Il titolare della Delegal Welfare si sarebbe quindi detto disponibile, anzi ben lieto, di passare il testimone a chi vorrà il presidente anche domani mattina.